Mezzanotte 59, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Tragedia sfiorata sull'autostrada 6 Torino-Savona, una frana causata dalle piogge incessanti che hanno colpito da ieri Piemonte Liguria, travolto e spezzato via, spazzato via oltre 30 metri del viadotto Madonna del Monte. Per fortuna non ci sono vittime. Ma è stata un'altra giornata difficile per il maltempo su quasi tutta l'Italia. Vediamo. E' l'immagine di questa giornata di furia meteo con piogge e tempeste su tutta la penisola. Il viadotto sulla 6 Savona-Torino spezzato come un grissino venuto giù in seguito a una frana, una strage mancata per miracolo e questa sera una voragine di una decina di metri si è aperta sull'autostrada Torino-Piacenza tra Assi e Villanova. Il terreno è sprofondato a causa della pioggia, un'auto in transito è riuscita ad evitarla per un soffio. L'Italia sott'acqua e allerta rossa in molte regioni, una vittima in provincia di Alessandria, una donna travolta dal fiume Bormida, con il po' che fa paura, è inondato le campagne della pianura padana e ha sommerso i murazzi di Torino. Neve in montagna con un migliaio di persone isolate in Val d'Aosta, danni in Liguria, Acqua Alta, Venezia, ma al tempo anche al sud è fortemente colpita la Calabria. Questa è il reggio con le strade che sembrano piscine e le macchine impantanate, allagamenti anche alla Mezzia Terme, Vibo, Valencia. Treni sospesi sulla linea per Catanzaro Lido, i detriti portati dalle piogge hanno bloccato i binari in più punti ed è stato necessario interrompere il traffico ferroviario. Domani scuole chiuse in molte città. In Campania, nel Napoletano, il fiume Sarno è stralipato a qualche centinaio di metri dalla foce. Per le famiglie che abitano alla periferia di Castellamare di Stabia è scattata l'emergenza, in molti passeranno la notte fuori casa. La politica interna adesso, il giorno dopo il vertice con Beppe Grillo e Luigi Di Maio, prova a guardare avanti, a voltare pagina. Per il governo forte serve un movimento forte, facciamo un contratto e andiamo avanti per tre anni, ha detto, ma dal PD Franceschini replica, non serve un contratto, siamo alleati, non avversari, serve un'intesa, non una firma. Il giorno dopo l'appello di Beppe Grillo per un rinnovato accordo di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per assicurare un futuro alla legislatura, interviene anche Luigi Di Maio e spiega se il Movimento 5 Stelle è forte e compatto, il governo è forte e compatto. Dunque il capo politico dei pentastellati, incassato il nuovo sostegno del fondatore alla sua leadership, punta a rafforzare l'intesa giaro-rossa. Sono le parole che attendeva il Presidente del Consiglio. Infatti il Premier assicura, dopo l'approvazione della manovra, dovremo concentrarci sulle nuove iniziative da realizzare, faremo un cronoprogramma. Il capo delegazione al governo per i demmi, il ministro Franceschini, però ci tiene a puntualizzare, lasciamo perdere i contratti che per natura sono accordi tra i controparti, non abbiamo bisogno delle firme, abbiamo un'intesa politica. E il vice segretario del PD, Andrea Orlando, usa parole ancora più esplicite e indirizzate dai partner di coalizione. La condizione più pericolosa per la tenuta del governo è l'attuale di separati in casa. Comunque a Nazareno si continua a sperare che sia in Emilia sia in Calabria tra il Movimento 5 Stelle e il PD si possa arrivare ad un'intesa elettorale, anche se Di Maio dice ancora di no. E poi in serata, a non è l'arena, si dice convinto che con i demmi sarà trovata anche un'intesa per la riforma della giustizia e per la nuova prescrizione. Infine il capo politico pentastellato conferma, dobbiamo riuscire a togliere le concessioni autostradali al gruppo Benetton. L'imprenditore Michael Bloomberg, per 12 anni sindaco di New York, ha ufficializzato la partecipazione alla corsa alla Casa Bianca nel 2020 nel Partito Democratico. Bloomberg potrebbe saltare le primarie democratiche nei primi quattro stati in febbraio e scommettere su quelle di marzo in altri stati più grandi come la California. Trump è una minaccia esistenziale, per questo ho deciso di candidarmi, ha detto, per batterlo e ricostruire l'America con queste parole. A oltre cinque mesi dalle prime proteste Hong Kong torna il voto per le elezioni distrettuali, registrata un'affluenza record, oltre il 71%, la più alta dal passaggio da Londra a Pechino. I democratici sono in testa. Un voto che per Hong Kong è in realtà un referendum sulle riforme democratiche nel territorio sotto il controllo cinese. L'affluenza già spiega molto. Al rinnovo dei consigli distrettuali hanno partecipato il 71,2% degli aventi diritto, quasi 3 milioni di persone, un record del doppio del milione e mezzo della tornata elettorale del 2015. Il segno evidente dell'appoggio che i cittadini di Hong Kong danno alla rivolta contro Pechino che da mesi ha bloccato l'isola con manifestazioni oceaniche e scontri violentissimi tra chi protesta e la polizia. I risultati confermano il trionfo delle forze che chiedono un cambiamento democratico che in media strappano la stragrande maggioranza dei seggi, andando a conquistare storiche roccaforti fedeli alla Cina. Il voto di ieri è anche un referendum sull'operato della governatrice Carrie Lam, della quale i cittadini di Hong Kong hanno chiesto la cacciata a gran voce. La sua poltrona ora è davvero in bilico perché il fiume di rappresentanti favorevoli alle riforme, incluso il suffraggio universale per eleggere la principale carica dell'isola, cambierà le forze in Parlamento e nella Commissione che ora sceglie il governatore. Le elezioni inoltre si sono svolte senza alcun disordine, altra vittoria per la democrazia. E siamo allo sport, nel tennis, la Spagna conquista la Coppa Davis per la sesta volta, sconfitto in finale il Canada 2-0, il punto decisivo conquistato da Rafa Nadal su Shapovalov. Per il calcio, tredicesima giornata di Serie A, dopo gli anticipi di ieri, Lazio e Roma si confermano in zona Champions League. Sul podio della Serie A, alle spalle di Juventus e Inter, resiste solo la Lazio, giunta alla quinta vittoria di fila e da oggi miglior attacco del torneo. A Reggio Emilia il capocannoniere immobile rifila al Sassuolo la sua quindicesima rete in campionato con la complicità di consigli. Allo scadere del primo tempo Caputo risponde per i Neroverdi, ma in pieno recupero Caicedo, entrato nel finale, fa felice Simone Inzaghi che arriva a 27 punti, due in più della Roma. Le trattative per la vendita della società non distraggono i giallorossi che si sbarazzano per 3-0 del Brescia, privo di Balotelli. All'Olimpico succede tutto nella ripresa. Il difensore inglese Smalling segna e fornisce i due assist per i gol di Mancini, splendida la sua girata all'incrocio, e di Dzeko. La squadra di Fonseca che sta recuperando gli infortunati, stacca l'Atalanta lasciandosi momentaneamente dietro anche il Cagliari, fermato dalla pioggia. Campo impraticabile a Lecce e partita rinviata alle 15 di domani, poche ore prima del previsto posticipo Spal Genoa. Intanto sale il Verona, che supera la Fiorentina sul campo e in classifica, a punire i toscani, falcidiati dalle assenze, e l'ex Viola di Carmine, finora mai a segno in A. La formazione di Juric agguanta a 18 punti il Parma, fermato sul 2-2 dal Bologna. Kuluserski e Jacoponi portano due volte avanti i gialloblu, ma Palacio e Gemaili all'ultimo respiro regalano il pari a Mihailovic dopo 3 KO di fila. In coda la Sampdoria esce dalla zona retrocessione, con il 2-1 casalingo sull'Udinese. Gabbiadini e il rigore di Ramirez rimontano i Friulani, che in dieci sprecano il provvisorio vantaggio di Nestorovski. Ed era l'ultimo servizio, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.